Grande folla oggi nella capitale per rendere omaggio al campione scomparso ieri. Al Palazzo del Coni, a Roma, la salma di Pietro Mennea è stata accolta con un grande commosso applauso. Ad attenderla, per la successiva apertura della Camera Ardente, il presidente del Coni e il presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera, Artio Giomi. Ma se vogliamo voglio mettere un ricordo gioioso, uno scherzo. Lui nel 1987 aveva scelto il meeting Città di Grosseto per rientrare, al suo secondo rientro. C'era un'attenzione spasmodica su di lui, giornalisti di tutto il mondo, tutti lo cercavano. E lui poche ore prima di arrivare a Grosseto mi telefonò e mi disse non se ne fa di niente, sono qui a Civitavecchia, ho un incidente con la macchina e non mi sento bene. Io per cinque secondi mi si fermò il cuore e poi sentivo una gran risata e la scherzo scherzo sto arrivando. Ecco, lo vorrei ricordare in quel momento in cui Pietro sapeva anche scherzare. Il 6 di dicembre, pochi giorni dopo essere stato eletto, l'ho chiamato, gli ho detto Pietro quando ci vediamo e lui mi ha detto Alfio ti vedo volentieri, ti chiamo appena posso. Quello appena posso però aveva un significato diverso da quello che in quel momento ho pensato. Pietro Mennea, atleta e detentore del primato mondiale dei 200 metri piani dal 79 al 96, è anche noto per il suo impegno in politica. Con una carriera sportiva da invidiare, Mennea è stato campione olimpico a Mosca nel 1980 e recordman mondiale per 17 anni nei 200 metri. Il grande velocista pugliese, diventato leggenda dell'atletica, è scomparso ieri, all'età di 60 anni, stroncato da una grave malattia. Ogni competizione era a battaglia per Mennea, che oltre a doversi confrontare con gli avversari, doveva anche fare conti con un fisico non tipico dei velocisti. A fianco dello sport, anche gli studi e l'impegno in politica come eurodeputato dal 99 al 2004. Addio dunque ad un grande uomo, l'immagine che resterà è quella di un campione, simbolo dello sport italiano.